Il diritto di cronaca e i diritti della persona riconosciuti dalla Costituzione. Questo è il tema della conferenza tenuta dall'onorevole Tino Iannuzzi ai soci della Rotary Club Sala Consilina Vallo di Diano. L'illustre e il relatore ha affrontato il tema sotto diversi punti di vista. Il tema è di grandissima attualità perché incrocia due grandi diritti che hanno una matrice e un riconoscimento costituzionale. Il diritto di cronaca, il diritto della libertà di informazione, l'articolo 21 della Costituzione e la libertà dell'informazione, la libertà della stampa, la libertà dei media è un connotato irrinunciabile e fondamentale dello Stato di diritto ma del Stato democratico. Dall'altro lato c'è l'esigenza di tutelare i diritti di riservatezza, i diritti all'immagine, i diritti a non invadere la sfera privata delle persone che è un problema che si è posto molto per la questione delle intercettazioni. Quindi disposte dalla giudiziaria quando magari sono finiti in pubblicazione contenuti che non avevano una rilevanza per quell'indagine penale, che avevano un impatto invasivo e in qualche modo lesivo della dignità della reputazione delle persone. Da qui la riforma. Nelle ultime ore ha fatto rumore la proposta presentata in Commissione Giustizia della Camera da un parlamentare di Fratelli d'Italia di combinare il carcere ai giornalisti per il reato di diffamazione con pene fino a quattro anni e mezzo. Per agli annuzzi è una proposta sbagliata. A conclusione della relazione ha ricordato una frase di Aldo Moro. Questo paese non si salverà se non nascerà il senso dei diritti e dei doveri. La responsabilità è la stella polare e diritti e doveri debbono camminare di pari passo.